Devo rendere partecipe il pubblico interessato di un incontro che ho fatto a Roma, appunto camminavo per Roma quando incrocio con lo sguardo all'interno di un barettino, niente meno che Marco Pannella, ovviamente mi dirigo assolutamente verso di lui e iniziamo a parlare, ti aspetteresti appunto un politico che tra i mille impegni seppur cordialmente non ha tempo da dedicarti, invece Marco Pannella appunto se non sei un giornalista, se non hai telecamere appunto e voglia solamente di parlare è una persona di una piacevolezza immensa, una persona che appunto non disprezza di scambiare due parole, anzi parla, parla, parla molto e a un certo punto se mai vi capiterà di incontrare Marco Pannella e intavolare un discorso con lui vi renderete conto che arriva veramente a un livello di essere quasi a livello dei simpatici ma un po' vecchi rincoglioniti che ripetono sempre le stesse cose, parlano del loro passato, ovviamente passato di Pannella è molto e assolutamente di grande valore, assolutamente ci sarebbe da scriverci libri e libri interi, mentre parla, messaggia a un cellulare, un Nokia, uno di quelli vecchissimi, sembra che siano i 3310 se non sbaglio, blu piccolino, messaggia continuamente, non so con chi messaggia, forse con l'abonino, probabilmente loro via sms in qualche maniera programmano le future azioni politiche, forse per questo che sono sempre un po' così diciamo sterili. Adesso lo scoop non era quello di appunto sottolineare il fatto che Marco Pannella, un po' un vecchio rincoglionito dall'altro lato, messaggia, messaggia come se fosse un adolescente. Più che altro appunto il fatto che io l'ho incontrato in un bar, tra l'altro avevo appena saputo, avevo letto che stava facendo in quel momento uno dei suoi tanti scioperi della fame, e l'ho visto appunto intento a fare colazione, e gli ho chiesto, e lo stesso Marco Pannella mi ha confermato che, diciamo, sì lui stava facendo questo sciopero della fame, mi ha spiegato anche le ragioni, ma non le ricordo nella maniera più assoluta. Appunto, stava facendo lo sciopero della fame, ma durante lo sciopero della fame si concedeva ben quattro cappuccini al giorno, quindi lui era al bar col suo Nokia 3310, che aveva uno dei suoi quattro, quattro cappuccini al giorno, e quindi volevo un po', dato che tutti, quando si parla di Pannella, si chiedono come sia possibile, fa lo sciopero, ma è sempre grasso, è sempre il sciopero della fame, ma è sempre più grosso, più grasso, state tranquilli, nel senso Marco Pannella è difficile, sì fa lo sciopero della fame, però con ben quattro, diciamo, quattro cappuccini al giorno, lo sciopero della fame è piuttosto ricco di calorie, diciamo, non così restrittivo, non so, è un po' come immaginare Gandhi, che durante i scioperi della fame in realtà si concedeva, cosa ne so, due cioccolate con la panna al giorno, è un po', è un po' fuori luogo, cioè perlomeno, io non lo sapevo che durante gli scioperi della fame Marco Pannella si concede quattro, ben quattro cappuccini al giorno, cioè c'è gente che fa la dieta del cappuccino, per lui quello è lo sciopero della fame, finisce sui giornali, accolto dal Presidente della Repubblica, perché fa lo sciopero della fame con quattro cappuccini al giorno, non so, magari Labonino quando lo segue, lei si concede due o tre McFlurry al giorno, non lo so, probabilmente Labonino trova questa alternativa, non lo so. Niente, tutto questo per dire, appunto, per parlare dei quattro cappuccini al giorno di Marco Pannella, che sono poi un po' metafora di questa classe politica, di questa classe d'opposizione, che non combinerà mai niente, non ha mai combinato niente, proprio perché non riesce a staccarsi nella maniera più assoluta da quei quattro cappuccini al giorno, che sono assolutamente indicativi delle caratteristiche della nostra classe d'opposizione. Quei quattro cappuccini al giorno non li elimineranno mai, faranno sempre lo sciopero della fame, ma con quattro cappuccini al giorno. Tanto stiamo pur sicuri che per quei quattro cappuccini al giorno, poi la merda sciolta non viene a Marco Pannella, ma viene agli italiani.